Giuseppe Pedersoli da Roma, ma diciamo anche napoletano d'adozione, il figlio del grandissimo Bud Spencer che ci ha lasciati purtroppo pochissimo tempo fa, davvero un'icona di Napoli nel mondo. Lo vado subito a salutare e ad introdurre. Giuseppe, buonasera a te. Buonasera, grazie per avermi invitato. Grazie a te per la presenza. Allora, io direi di commentare un po' d'ampio raggio questa festa a scudetto, dal tuo punto di vista naturalmente di artista quale sei, sceneggiatore, produttore televisivo. A noi ha fatto piacere vedere le bandiere con l'effigie di mio padre vicino a quelle di Maradona negli stadi delle ultime partite, quindi Bud Spencer è sempre nel cuore di Napoli e Napoli è rimasta sempre nel cuore suo perché ha fatto i primi record nel nuoto, le prime avventure nello sport da adolescente, quindi Napoli è sempre rimasta la sua città. Ha sempre detto, scherzando, non sono italiano, sono napoletano e questo l'ha detto in tanti momenti, in tanti film. Poi ha girato Piedone, quindi il legame è stato fortissimo. A proposito di Piedone, perdonami se ti interrompo, ma ne approfitterei anche per dare una notizia perché ti stai concentrando su un film che sarà girato a Napoli. Come protagonista ci sarà Salvatore Esposito, ricordiamo? Salvatore è un grandissimo tifoso del Napoli, ci ho parlato pochi minuti fa, gli dispiaceva non poter essere in collegamento con voi, ma vi manda saluto, manda saluto a tutti. Napoli si stringe proprio attorno a questo grande evento che sta richiamando economia, turismo e che richiama sicuramente l'attenzione dei grandi produttori come te, degli scrittori e di coloro i quali operano proprio nell'ambito della cultura. Che cosa rappresenta questa trasformazione? Beh, è già qualche anno che Napoli è diventata una location prediletta per tanti film e serie televisive nazionali, ma anche per grandi film americani e internazionali. Quindi questa vittoria che arriverà presto per il calcio napoletano è solo la ciliegina sulla torta per una Napoli che ormai da qualche anno non è più quella raccontata in tanti film con le sue negatività, i suoi problemi, ma è una città come merita da tantissimo tempo di essere rispettata, di essere visitata, di essere goduta perché ha delle grandissime qualità ed è una città meravigliosa. Bene, è bello sentirlo dire peraltro da un romano, nonostante sia come ti è naturalizzato insomma, è napoletano se vogliamo, però è bello sempre sentirlo.